Alcune volte capita di sentirci dare un po' a sproposito la frase di Gesù misericordia io voglio e non sacrifici. Per capire bene queste parole è utile andare alla radice del significato della parola misericordia. Essa deriva da due parole latine miserere che significa avere pietà e cor o cordis che significa cuore. La misericordia non è un atteggiamento buonista che fa finta di non vedere gli sbagli ma piuttosto l'atteggiamento di chi come Dio guarda alla miseria altrui con il cuore cioè di chi non si scandalizza davanti al peccato ma di chi si ingegna per aiutare il peccatore a riconoscere la propria ombra e a superarla. E i sacrifici non sono una serie di obblighi da rispettare ma la fatica di offrire la propria vita per gli altri come ha fatto Gesù sacrificandola per noi. Buona giornata a tutti.